Quarantasettesima edizione del Vinitaly, qui con Storie di Sapori abbiamo un altro racconto da farvi ma soprattutto diamo anche delle news noi qui. Con me c'è Giancarlo Voglino, Managing Director scusa lo leggo dell'International Exhibition Management. Allora Giancarlo oggi con te qui noi vogliamo parlare di quei fondi comunitari che vengono erogati e possono essere a disposizione delle aziende verso i paesi terzi. Come funziona? Diciamo che è uno strumento che da tre anni a questa parte la comunità ha messo a disposizione delle aziende italiane per le aziende europee, quindi anche italiane e per la prima volta sono fondi che sono destinate alla promozione del brand quindi non soltanto della denominazione ma anche del brand aziendale. Funzionano verso i paesi terzi quindi non sul mercato europeo, è un contributo al 50% che viene erogato appena il progetto è stato approvato dal Ministero dell'Agricoltura, ci sono dei bandi annuali che scadono solitamente a metà giugno e le aziende possono accedervi o direttamente per singole aziende laddove i budget possono sostenere questo tipo di azioni oppure creando delle apposite aggregazioni di aziende per poter insieme affrontare questi fondi e poter affrontare insieme i mercati. Voglio far notare che questi fondi sono attivi dal 2009 il risultato che è evidente che hanno apportato nel valore dell'export del vino italiano è enorme perché noi siamo passati dal 2008 che esportavamo 3.5 miliardi di euro al 2012 che abbiamo esportato 4.7 miliardi di euro quindi con un incremento notevole nei 4 anni e soprattutto il valore a bottiglia è passato da 2 euro a più di 3 euro quindi questo è stato un grosso aiuto che sta dato in un momento di crisi ad un settore che invece non conosce crisi soprattutto sull'esportazione mentre invece il mercato interno è fermo. Una domanda, vi possono accedere tutte le aziende, ci sono dei limiti nel senso dall'azienda piccolina a conduzione familiare fino diciamo così alla grande realtà? Sì, questi fondi sono a disposizione di tutti, ovviamente ci sono delle regole di finanziamento minimo che sono stabilite, sono 100 mila euro per paese ma questo non deve spaventare perché aggregando 4, 5, 6 aziende si può accedere con un progetto unitario, si può accedere a questi fondi quindi sono fondi che sono aperti a tutti e che tendenzialmente vogliono favorire proprio le micro imprese aggregandole, insegnando loro, aiutando loro ad esportare sui mercati. Bene, io ti ringrazio perché grazie anche alla tua testimonianza Giancarlo abbiamo dato una news in più e magari anche a tutti quei produttori che non sapevano di questa realtà, grazie mille. Grazie a voi, grazie.